Onore ai caduti! Italia! Italia! Anche i ragazzini della scuola di Campese, intitolata al 4 novembre, proprio in questa giornata hanno reso omaggio i caduti in occasione dell'anniversario della vittoria nella prima guerra mondiale e delle forze armate. Uniti davanti al monumento, simbolo di tutti quei giovani che hanno dato la vita per la patria, hanno deposto la corona dall'oro, recitato poesie e cantato canzoni accompagnati dagli alpini e dalle insegnanti. Una lezione di storia e di educazione civica vissuta in prima persona, ricordando l'orrore della guerra e lanciando un messaggio di speranza in questi anni di pace. Ci sono seduta e diviso la pace!